Nel cuore del centro storico di Siracusa, in Ortigia, in un ambiente denso di storia e di arte, troverete il nostro hotel, nato dalla restauro di un palazzo di fine ottocento, comprensivo di nove camere tutte elegantemente rifinite ed alcune classicamente decorate. Il Gargallo Hotel si trova a breve distanza da tutti i servizi utili al turista e a pochi passi dai più importanti siti storici dell'isola e permette ai suoi ospiti di spostarsi tranquillamente, a piedi o con mezzi pubblici gratuiti disponibili. Le nostre camere, arredate e provviste di tutti i comfort, dispongono di aria condizionata, tv satellitare, telefono, internet e wifi, frego bar, scrittoio, cassette di sicurezza. Nel raggio di metri lineari 250 Palazzo Vermexio Palazzo Beneventano La chiesa di Santa Lucia alla Badia L'ipogeo di Piazza Duomo ed altro Anche io vado all'hotel Gargallo 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 Anche io vengo all'hotel Gargallo Naturalmente anche io vengo all'hotel Gargallo Chi 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 più di me ne ha diritto